Buongiorno e benvenuti. In questo video illustreremo come prepararsi ad utilizzare Autoresk Account in semplici passaggi. Dopo aver effettuato ed eseguito l'accesso con le proprie credenziali, quindi inserendo l'indirizzo email e la propria password, verrete indirizzati nella home page di Autoresk Account. Da qui è possibile accedere facilmente a tutte le informazioni più importanti del portale. Per avere un supporto a Autoresk immediato basterà cliccare sull'icona del punto di domanda in basso a destra. Potrete scegliere tra varie opzioni di supporto. Il sistema vi proporrà inizialmente una serie di possibili soluzioni, ma qualora non ci fosse disponibile la vostra richiesta sarà possibile contattare un agente. Per aggiungere ed assegnare nuovi utenti passate a gestione utente per utente. In questa schermata fare clic su invita utenti. Per aggiungere rapidamente un nuovo utente vi basterà cliccare su invita singolo, mentre per invitare più utenti contemporaneamente cliccate su importa. Una volta fatto, cliccando su invia invito, l'utente riceverà un'email con tutte le informazioni per accedere alla propria licenza. È possibile gestire gli utenti anche cliccando su per prodotto. Qui verranno visualizzati il numero di abbonamenti associati a ciascun prodotto e il numero di utenti assegnati a tali abbonamenti. Una volta assegnati gli utenti sarà possibile andare ad effettuare il download delle licenze. Nel menu di navigazione alla vostra sinistra cliccando su tutti i prodotti e servizi avrete l'elenco di tutti i prodotti a cui siete abbonati. Qui è possibile scaricare ed installare i vostri prodotti. Basterà appunto individuare il prodotto desiderato dall'elenco, selezionare la versione, la piattaforma e la lingua e selezionare un metodo di download. In fatturazione e ordine abbonamento e contratti invece sono disponibili tutti gli abbonamenti e contratti alla quale siete abbonati. È possibile monitorare i contratti e visualizzarne tutti i dettagli nonché anche le date dei rinnovi successivi. Infine è possibile visualizzare le informazioni sull'utilizzo delle postazioni in rapporti utilizzo di postazioni. I prodotti in uso, i rapporti aggregati di tutti i vostri prodotti. Facendo clic su per prodotto potete visualizzare ulteriori dettagli come per esempio il numero di utenti assegnati, la frequenza di utilizzo, le versioni in uso. Vi ricordo che questi dati vi consentono di utilizzare al meglio tutti gli strumenti disponibili, evitano tempi di inattività e semplificano le decisioni di acquisto. Cliccando su per utente avrete esattamente le stesse informazioni di stessi dettagli ma specifici su tutti gli utenti. Cliccando sul menu a tendina indicato dalla freccia è possibile scegliere una frequenza di tempo desiderata che varia dai 3 ai 12 mesi. Grazie e al prossimo video. Grazie a tutti.